La musica nei locali del centro storico va spenta a luna di notte, il venerdì, sabato e prefessivi e a mezzanotte negli altri giorni. Una decisione approvata dal Consiglio Comunale di Fano è contestata dalla Lega Fano che la reputa ingiusta, visto anche l'autocontrollo imposto agli esercenti che dovranno munirsi dell'idonea attrezzatura. Lei che cosa risponde? Allora, a me sembra che il consigliere della Lega che è venuto qua ieri ai vostri microfoni non abbia ben capito di che cosa si è parlato in Consiglio Comunale. È stato un percorso condiviso, partito dagli assessorati, quindi l'assessorato all'attività economica, l'assessorato all'ambiente, l'assessorato al patrimonio e che ha messo insieme intorno a un tavolo i cittadini, i residenti del centro storico che in questi mesi si sono costituiti in un comitato e le attività economiche per valutare alcune situazioni migliorabili all'interno del centro storico. Tra queste anche quelle attività che svolgono, quegli esercizi commerciali che svolgono un'attività di musica, intrattenimento fino a tardasera. La problematica principale emersa da questo tavolo è che i controlli che può fare l'amministrazione comunale sono molti limitati perché, come già stato detto, l'ente preposto per controllare i decibel della musica emanata è l'ARPA, che purtroppo non ha personale sufficiente per fare questi controlli. Quindi tutti quanti, forze di maggioranza e di opposizione, perché nel frattempo questo dibattito è arrivato anche nella commissione consigliare che presiede o che è la commissione affari generali, quindi dove ci sono consiglieri di maggioranza e di opposizione, tutti quanti abbiamo convenuto che per far sì che il comune, e quindi in questo caso nelle figure della polizia locale, dei vigili, possano controllare questo tipo di attività, si è concordato di mettere un orario limite di spegnimento della musica, che è quello che vediamo nel regolamento. A incentivare le attività commerciali per, diciamo, evitare questo limite e quindi andare in deroga a questa imposizione che mette il regolamento, c'è la possibilità di attrezzarsi con strutture idonee che misurano direttamente i decibel emanati. Anche questo è un plus che vogliamo dare alle attività commerciali perché siamo fortemente convinti che chi ha un'attività, in particolare modo in centro storico, debba essere responsabile della qualità della vita di quella zona. È una norma transitoria, che cosa significa? Allora, questa normativa sarà in vigore fino a quando il comune di Fana non avrà personale formato per fare i controlli nell'ambito di queste situazioni, quindi i controlli dei decibel emanati, delle attività che svolgono musica. Per fare questo ci vuole una formazione piuttosto lunga che dura circa due anni. Il comune si è già attivato per prendere contatti con le associazioni o comunque con le università proprio preposte per fare questo tipo di corso, per svolgere questo tipo di mansioni. Sembrano semplici ma in realtà sono piuttosto articolati. Ecco, questa norma sarà in vigore. Riguarda soltanto le attività delle zone acustiche 3 e 4, che riguardano le zone a monte della ferrovia, quindi la zona mare per il momento viene esclusa, e poi una volta che si avrà personale preposto per i controlli si potrà tranquillamente anche rivedere questa situazione.